...fuori le cura! Sono promessi ricchi brevi per tutti i vincitori dei giorni... Psst! Ezio, vieni qui! ...concina per il dovos per il cavaliere più ballonoso e scostese! Ezio, vieni qui! Psst! Ezio, vieni qui! Ezio, vieni qui! Psst! Ezio, vieni qui! Chi è là? Ezio! Leonardo! Sapevo che c'eri tu dietro l'attacco al castello. Lieto di vederti, amico mio. Vieni qui! Perdonami, i Borgia hanno richiesto i miei servigi. Avrebbero potuto uccidermi se mi fossi rifiutato. Che cosa vogliono? Macchine da guerra. Ho inventato le armi per tutte le guardie dei Borgia e anche altre mostruosità. Sono molto ben progettate. Tieni. I nomi dei Templari che seguono la loro costruzione. Cesare vuole rifornire il suo esercito delle mie creazioni. Devi distruggerle. Grazie. Mi prenderò cura dei progetti e delle macchine. Temo di portare notizie anche peggiori. Ah no. La mela. Sì, lo so. Avevo dato io la mela a Mario. Mi dispiace, Ezio. Cesare me l'ha data per studiarla e farla funzionare. Poi Rodrigo l'ha presa e ora non so dove sia. Prima o poi la recupererò. Leonardo, ho perso tutte le invenzioni del codice che mi avevi creato. Non sarà difficile ricostruirle. Non dimentico mai un progetto. Però dovrei rimborsarmi le materie prime. Davvero? Non ti pagano abbastanza al Vaticano? Poco. Davvero poco. Se vogliamo farcela, non devono mai vederci insieme. Un indice puntato? Indica dove devi sederti. Quindi siedi. Certo, maestro. Aspetta qui. Tornerò presto. Posso uccidere il doppio delle quartie. Ok. Posso uccidere il doppio delle quartie. 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 Passate ad addestrarti, canario. Posso uccidere il doppio del quartet Grazie. 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 Sta scappando d'arma! Stai scappando d'arma! Sta scappando! Sta scappando! Alcuna la uscida! Sta scappando! Resta adesso la strada! Prendetelo! Alcuna la uscita! Resta adesso la strada! Prendetelo! Alcuna la uscita! No! Parateli! Parateli! Alcuna la uscita! Alcuna la uscita! Quanti siete! No! Lascappando! No! Bel tentativo! Alcuna la uscita! Alcuna la uscita! Alcuna la uscita! Più! Sta scappando! Quante ce ne sono di queste cose? Sta scappando! Andate a casa! Altrimenti... Morrete tutti! ... ... il mio dio